salve ragazzi e bentornati sul canale siamo di nuovo qua sulla nostra serie sopravvivenza e io sto navigando come vedete in cerca di un posto migliore ma per il momento non ho trovato proprio nulla che mi ispira no proprio niente tanto oggi sono tornato prima dal lavoro e quindi ho detto sai che c'è mi porto avanti mi faccio una bella registrata così siamo tutti contenti allora io penso che la cosa più furba da fare sia che io navighi un po in solitudine e poi ritorniamo a registrare appena ho trovato qualcosa di succulento ci vediamo tra un po allora ragazzoli ho trovato questo posto che non è male non so ancora però mi ispira quel buco in quella specie di montagna secondo me varrebbe la pena di andare ad esplorare questo posto potrei avere delle piacevoli sorprese oppure potrei morirci malissimo comunque noi giustamente ci accampiamo un attimino qua non lo so ha del potenziale questo posto ha molto potenziale però voglio vedere un attimino come pure dentro perché qua è caruccio poi magari fa cagare tanto vale andare un attimino più in profondità la barca la lasciamo qua anzi io farei una cosa molto sensata ecco qua setto un attimino il punto di spawn perché non lo so sai quella sensazione che adesso ci rimango secco o quella sensazione lì esatto quindi io direi di esplorare un attimino questo isolotto come fatto allora questa montagna sì mi sembrava un attimino più spessa diciamo così invece no è abbastanza sottile quindi forse non lo so sicuramente questo posticino potrebbe anche essere carino però però no me lo immaginavo diverso ragazzi mi immaginavo cosa di molto più imponente che si prestasse a fare cose fighe cioè si potrebbero fare cose fighe pure qua però non sento quel feeling quella cosa che ti scatta quando vedi il posto ideale che dici cacchio qua mi ci faccio la base della vita no 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 decisamente no quindi rompiamo il letto rimettiamoci nella barchetta e niente ragazzoli ci vediamo tra un po ciao cioè non ci credo c'è ancora del ghiaccio ma vi rendete conto che io sto andando dritto non ho girato cioè me ne sarei accorto e però c'ho di nuovo un cacchio di bioma ghiacciato anche se lì in fondo vedo qualcosa no 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 nessuna voglia di rinfilarmi degli enderman ok questa cosa non l'avevo mai vista nella vita mai mai signori attenzione attenzione abbiamo appena visto degli enderman morire nell'oceano io non lo so voi ma sinceramente non ho mai visto una cosa del genere mai mai nella vita quindi io aspetterei per prendermi quelle ender per senti le zucche io le butterei molto volentieri voglio quelle ender per l'assolutamente dove stanno ho visto che eccola qua qui c'è un ender per ma porca zozza ok ho preso l'ender per è la prima volta in assoluto che vedo una roba del genere mai vista in vita mia mai bellissimo ok continuo a viaggiare oh eccoci qua signori e quegli alberelli già mi ispirano tanto vedi che è un bioma un po caruccio quindi io sinceramente una occhiatina ce la darei a questo posto sembra caruccio sembra caruccio vediamo un po dove dobbiamo attraccare la c'è qualcosa cos'è dovrebbe essere quella cosa dei pillager si chiamavano così non mi ricordo mai allora dove possiamo attraccare qua proviamo si attracchiamo qua dai ok signori io la barchetta la lascio qua anche il letto lo metto un attimino qua e settiamo lo spawn tanto abbiamo subito un po di ferro che schifo non ci fa ce lo prendiamo ovviamente e vediamo questo posto come non mi sembra male vediamo se abbiamo cose interessanti qua c'è un canyon che comunque mi piace qui ci abbiamo un sacco di isole isolette la che cosa c'è andiamo a vedere lì dentro ragazzi perché vedo un buco che sono una grotta potrebbe essere una grotta da qua il canyon e già mi piace perché il canyon è sempre molto utile si possono fare un sacco di belle cose quegli alberelli rosa pure mi ispirano tantissimo qua ci abbiamo un buco ok mare da tutte le parti che comunque è una caratteristica fondamentale un altro canyon pure di qua ok proviamo a sedere magari non vicino al posto dei pillager altrimenti mi seccano malissimo però proviamo a sedere qua sopra vediamo un po la zona nei dintorni come forse dovrei aumentare la render distance per capire meglio però intanto salgo ok un attimino sparato la render distance a palla giusto per vedere questi mi hanno visto vabbè ma sta lontano figura di semi becca vi dirò non è male questo posto secondo me potremmo prenderlo in considerazione ovviamente sto laggando comunque in mano assassino perché ragazzi sto a 32 chunk di distanza un attimino esagerata come cosa eccomi qua sono tornato a prendere il letto perché vi faccio vedere secondo me questo posto merita ho trovato una zona molto caruccia andiamoci un attimino molto rapidamente perché secondo me qua potremmo anche e fare la nostra base perché no ci stanno un sacco di isolotti un sacco di montagnelle un sacco di roba ma soprattutto c'è una cosa che mi ha proprio ispirato cioè quando vedi quelle cose che ti triggerano vi faccio vedere dovrebbe stare qua dietro in teoria fatemi riprendere la barca che qua sempre meglio non lasciare nulla cosa c'ho nell'inventario che mi occupa spazio ok da queste parti sì forse lo intravedo quella montagnella lì la vedete quella montagnella lì se non mi ricordo male nasconde una cosa molto caruccia eccolo qua quello mi piace guardate guardate come si delina cioè praticamente c'è un buco enorme qua dentro che secondo me si presta benissimo per fare un sacco di belle cose sì 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 decisamente mi ispira qua c'è pure questa bellissima formazione lacustre è perché non mi veniva in mente come dire lago e quindi formazione lacustre ci sta ora io mi avvicinerei molto molto lentamente mentre mangio giusto per non morire male ok sì secondo me promette bene questo posto rampichiamoci un attimino quassù o cioè ma ditemi voi che cos'è questa roba guardate è o non è una figata questo si potrebbe tutto customizzare non so ancora come allora perché la mia idea non è quella di farmi una base il classico castello la base nella montagna con 1797 miliardi di stanze la mia idea era quella di fare una base un po più open space cioè praticamente all'aperto e questo posto secondo me potrebbe andare bene allora io intanto inizierei a prendere posizione quindi possiamo anche mettere giù qualcosa iniziare a farci un buchetto tanto per stare al sicuro una cosa molto scialla io farei così proprio nella montagna allora signori questo sarà il nostro accampamento il punto zero quindi mettiamo questa roba qua facciamoci un po di chest non tantissime perché lo spazio è quello che è quindi io direi di fare così qua metterei una bellissima double chest iniziamo finalmente a toglierci un po di roba dalle balle che l'inventario è pieno dalla notte dei tempi io scarico tutto velocissimamente e poi iniziere pure a mettere delle fornaci perché no quindi facciamo subito una cosa del genere o la gli accampamenti iniziali sono sempre la cosa migliore mettiamo pure questo qua il carbone già l'ho perso sta qui quindi inizierei a fare una roba di questo tipo perfetto così e mettiamo pure un po di carbone per cucinare cosa abbiamo qua di buono abbiamo questo questo e questo basta allora è lo so spezzettando tutto per ottimizzare e qua mettiamo a cuocere un po di cosette già mi sento meglio vedi ci manca il letto dove il letto il letto lo mettere qua sentiamo anche il punto di spawn e signori io metterei pure una porticina che dite giusto per non far entrare gente non desiderabile io la metterei qua così perfetto ottimo abbiamo il nostro piccolo rifugio qua mettiamo un po di luci tanto per vederci qualcosa dovrebbe essere fantastico qua mettiamoci delle luci tanto per non perdercelo perché poi lo so che me lo perderò forse sarebbe il caso di abbassare un po i suoni che dite mettiamo a un 25 cioè io li sento sparatissimi ok perfetto questa è la nostra prima primissima base molto momentanea però devo fare una cosa che a me serve tantissimo perché voi capite io poi mi scordo di chiudere la porta faccio casini però non mi piace così allora perché quando devi mettere ste pedane c'è sempre il problema della porta che non sta messa bene qua non va bene quindi la porta la devo mettere su quest'altro blocco così se non mi ricordo male ora in teoria dovrei essere in grado di mettere questa botola qua perfetto fuori un po sporgente ma secondo me ci sta bene ok abbiamo la base ora io la prima cosa che faccio poso tutto quello che non mi serve recuperiamo un po di cibo e andrei subito in esplorazione di quel bellissimo super mega buco nella montagna che secondo me ci riserva un sacco di belle sorprese quindi posiamo ste cosette qua ci abbiamo lo stone cutter che io a sto punto lo posizionerei qui dentro così tanto per non rompere le balle alla gente questo ce lo teniamo di riserva allora il cibo ce l'abbiamo le torce ce le abbiamo un po di legno da portarci ce lo abbiamo possiamo anche incamminarci direi abbiamo il ferro abbiamo tutto quello che serve perfetto allora andiamo a vedere un po com'è questa zona o questo raga questo questo canyon è bellissimo e signori non so se voi notate ma là c'è un bellissimo slime quindi potrei aver trovato un chunk di slime sarebbe una botta di culo esagerata allora però mi servirebbe sì un secchio d'acqua per forza devo sacrificare dei lingotti assolutamente perché il secchio d'acqua è fondamentale allora un due tre secchio se faceva così vero sì perfetto almeno qualcosa me la ricordo andiamo a riempire sto secchio con della bellissima acqua dove cazzo la sta l'acqua ok almeno possiamo scendere tranquilli ora io mi farei una bella discesa qua da qualche parte no ma l'acqua già c'è in teoria potrei usare questo per scendere o quello meglio ancora quello è per risalire però insomma va benissimo anche quello così l'acqua me la porto giù capite ora ci arrampichiamo un attimo lassù e vediamo che cosa si vede e vabbè pure questo posto è molto bello guarda quanta roba che c'è io un saltino qua sotto me lo farei molta calma con molta scellitudine ci iniziamo a prendere un po di carbone allora non ho ancora proprio chiaro chiaro che cosa voglio fare in questo posto cioè c'ho un'idea molto sommaria di questa base all'aperto con delle delle zone adibite alle farm a queste cose qua però non ce l'ho proprio l'idea chiarissima quindi magari lo faremo pure insieme sono sicuro che mi darete dei consigli tanto qua io continuo a prendermi il carbone che da quello che ho visto non è mai abbastanza ce ne prendiamo un botto poi una cosa importante di stare vicino il mare è che nel mare ci sono le kelp le alghe quindi avere il mare a portata di mano vuol dire avere una farm infinita di kelp è la kelp se tu la cuoci puoi farci quella roba impacchettata i blocchi di kelp cotti che non mi ricordo come si chiamano che praticamente sono un ottimo combustibile quindi possiamo cuocere tutto quello che ci interessa senza doverci uccidere a prendere il carbone quindi il carbone lo releghiamo semplicemente a fare torce questo è allora io vorrei scendere da qui ma mi faccio malissimo però posso fare una cosa del genere tanto per risalire usiamo quello non è vero mai vabbè in un modo saliremo dai non lo stiamo a badar capello ok aspettiamo dell'acqua arrivi giù così ci buttiamo anzi che farei proprio temerario mi son preso l'acqua e scendiamo insieme all'acqua potrei anche fare una cosa del genere ok allora signori attenzione siamo in zona nemica a tantissimo e stiamo a piazzare torce da tutte le parti così tanto per avere una safe zone no più che altro è per vedere che cacchio succede perché quasi non si vede nulla ok ciccio qua lo sacchiamo malissimo subito perfetto io ho il terrore dei creeper è quello che mi terrorizza uno sta lì ma non mi può raggiungere qua intorno non vedo altra gente o anche diminuito la sensibilità del mouse perché mi sono reso conto che spesso e volentieri mi muovo in modo frenetico così è forse voi poverelli vomitate un po quindi sarebbe il caso di evitare queste cose vite allora io seccherei anche questo sfasciamoci un po di ferro tanto per avercelo perfetto altro carbone ce lo prendiamo dobbiamo solamente stare attenti ai creeper perché un creeper adesso non dico che sarebbe la morte però potrebbe essere fastidioso non mi ricordo se ho settato lo spawn dove ho messo il letto questa è un'altra cosa che potrebbe essere potenzialmente fastidiosa ma quanto sono carini sti pipistelli qua c'è del ferro che ci prendiamo attenzione si aprono nuove bellissime cose per noi speriamo che non sono cose mortali e dai bellissimo questa parte mi piace allora sicuramente come esplorazione non ci mancano le cose da esplorare cosa cazzo l'estato tiranni maledetti tossici e drogati effetto abbiamo tolto il ragno pipistello io non ti vorrei ammazzare c'è la skin nuova se tanto caruccio però se mi rompi le balle probabilmente fare una brutta fine è così è esattamente così io continuo a mettere un po di torce allora diamo un attimo uno sguardo qua ci abbiamo del rame rame a volontà che potremmo tranquillamente usarlo anche come blocco da costruzione dei lapislazzoli assassini altro ferro ottimo molto ferro è una cosa bellissima rame ok va bene un po rotto anche le balle questo rame però diciamoci la verità vediamo un attimino qualche cosa c'è è grandissima questa roba c'è qua ci si perde una bellezza quasi scende io mi prenderò solo un po di ferro per le mie cose tanto per metterei un po di torce allora sto sporgendo un po di torce a muzzo in modo da delineare la zona che stiamo visitando ma sotto si muore malissimo e lapislazoli abbandonerò lì perché al momento non è che mi servono molto ok la c'è quel creeper solitario che è fermo e non si muove il che ci fa molto piacere qui c'è del ferro classico qua dentro che cosa c'è la morte per me no sì non si sa ok mi sto addentrando un po troppo io poi mi perdo lo so qui c'è dell'altra acqua acqua da tutte le parti vabbè ritorniamo un attimino su spadina alla mano tattica ovviamente qua vediamo che cosa c'è di carino altro rame questa cosa se non la fai se una persona cattiva non gli va fatta per forza ogni volta che vedi questi pezzi di come si chiamava gravel in italiano non mi ricordo mai termini ragazzi purtroppo qui ci siamo passati perché ci sono le torce qua potrei fare un attimo un gradino giusto per ho finito le torce però per fortuna abbiamo del legno quando andate in esplorazione la cosa fondamentale che non deve mancare è il cibo e il legno che se c'è il legno puoi mettere torce ok prendiamoci dell'altro carboncello vediamo qui dentro che cosa si nasconde e vabbè ragazzi qua qua ce n'è da lavorare qua c'è tanto da lavorare è enorme questa cosa porca zozza ho già detto che mi piace sto update delle caverne se non l'ho detto ve lo ridico è una gran figata per fortuna che c'è quel buco enorme che mi fa ricordare dove vengo altrimenti mi sarei già perso qui c'è dell'altro ferro che vado a prendere stavo per morire malissimo non so se si è notato porca zozza prendiamoci quest'altro pochino di ferro perché lanci il piccone così impunemente perché lo fai non si fanno queste cose olla carbone preso ferro preso sto prendendo tutto qua che c'è sta nulla di che io sono sempre in cerca di creeper anche se da ste parti creeper non è che si possono mimetizzare tanto perché è tutto è tutta pietra quelli sono verdi comunque di ferro ne stiamo a prende tanto e questa è una cosa molto buona guarda dove di giri giri da un po sfascio pure il piccone è questione di di attimi e non so quanti utilizzi sono rimasti ma questo piccone eccola c'è una faccia proprio che se ne stava andando lo sapevamo tutti allora cerchiamo di tornare nel punto iniziale che dovrebbe essere da queste parti attenzione quasi muore male ok dove la mia zona illuminata già sono salito quassù ma cavolo ci sono arrivato qua o e abbiamo già visto un clip erano zombie la cosa non mi piace manco un po però in teoria non dovrebbe essere un grandissimo problema se ne arriva uno per volta se ne arrivate 15 per volta magari la questione si fa un po più complicata dov'è andato io vorrei sapere dov'è il clipper in tutto ciò non lo vedo non lo vedo il clip ma quello dove cazzo l'ora è andato a stai qua scusa mio amico è ma non è per cattiveria sto cercando il clipper io perché dove vado io arrivano mille mila zombie signori questa tra un po sarà casa mia quindi se vi levate dalle balle ci fate un favore sono convinto che il clipper è finita nell'acqua ed è caduto non è vero quindi sta nascosto questa cosa è abbastanza inquietante quello è morto giù chi è o e basta avete rotto un po le scatole tutti e ragazzi c'era un clipper ve lo giuro e non c'è il fatto che io non lo veda mi rende un pochino nervoso allora io andrei un attimo su nella mia base a smettare un po di materiali e poi ritorno sempre se riesco a salì allora potrebbero a fare una cosa no non la potre si la potrebbero a fare da ciò con dei blocchi da costruzione quindi mi potrei arrampicare qua e quando arrivo lì su magari mettendo questi blocchi potrei farmi una sorta di scaletta verso la libertà forse non lo so lo vediamo ecco tipo no io arrivo qua posso fare qualcosa del genere in modo che salgo così ottimo e qua inizio la mia scalata verso casa se la trovo casa attenzione dove cazzarola si va secondo voi di qua potrebbe essere non so dove sono ovviamente ok vedo delle torce quelle casa ok andiamo a smettare tutta sta roba che abbiamo preso perfetto allora io dividerei un po il ferro in parti uguali tanto per non far offendere nessuno così è tutti ciucci questo non ce ne frega niente andiamo pure a mettere un altro po di carbone qui dentro perché altrimenti tra un po non riesco più a fare nulla così va benissimo ok il carbone abbiamo fatto dormiamo anche non è vero si è fatto il giorno nel mentre questo per il momento lo posiamo qua e io ovviamente necessito di un altro piccone perché quello che avevo è allegramente andato quindi io mi farei almeno altri due picconcini in questo modo qua uno e due perfetto il resto lo buttiamo tutto qua dentro non ci interessa nulla e possiamo riandare ora dovrei ricordarmi come ci sono arrivato da lì dietro sicuramente quindi prendiamo questa strada così che abbastanza tecnica e forse ecco qua dietro in teoria c'è quel cosa che ho messo io non è vero eppure stava scusami dove cavolo ah non era molto più su va bene andiamo più su ecco non è proprio il percorso bellissimo ma comunque ci si può tornare ora ci lanciamo nell'acqua vero sì perfetto ma siamo andati un po più giù di dove eravamo prima io tornerò un attimino più su perché meglio e siamo di nuovo qua o continuiamo l'esplorazione seccando questo piccolo sombo che sta arrivando portato le basi nelle balle grazie mettiamoci un po di cibo vero e no questo schifo allora qua c'è dell'altro ferro io lo prenderei tantissimo dai una piccola sessione di mining pure ci voleva andiamo distribuendo torce in giro per il mondo anche perché qua devo illuminare tutto poi se non mi ricordo male avevo letto che in questa versione nuova di minecraft e possino ammazzate a te ea chi non te lo dice stavo raccontando una cosa in questa versione di minecraft porco lo schifo aspettate smangiucchi un attimo evitando frecce se riesco comunque stavo dicendo per la terza volta in questa versione di minecraft in teoria i mostri sporano solo quando la luce è zero assoluto mi pare di aver letto una roba del genere qualche tempo fa però non ve lo posso giurare però insomma ci spero se così fosse sarebbe molto interessante questa cosa perché invece di mettere 20 milioni di torce tipo cimitero indiano ne servirebbero molte di meno per rendere la zona sicura tipo normalmente qua un mob dovrebbe esponare perché la luce ammesso che io mi ricordi dove si legge la luce oello la client light qui la luce di 8 qua di 7 insomma manco qua dovrebbero spona i mob dovrebbero spona solamente a luce 0 il che è molto figo allora ragazzi io ho visto che mi trovo farei un'esplorazione un attimino più in profondità quindi scendiamo e vediamo se riusciamo pure a trovate diamanti non sarebbe una brutta cosa trovare un bel diamantuzzo così gratis velocemente quindi infiliamo ci cerchiamo di non perderci tanto quasi scende ok continuiamo a scendere bellissima quest'acqua che ti accompagna o qua già siamo in zona abbastanza interessante vediamo se si prosegue non si scende più questo è un gran peccato perché io c'ho sperato di trovare i diamanti così gratis sarebbe stato molto bello vabbè intanto ci prendiamo quest'altro ferro che schifo non ci fa e ma questa è una pena di ferro pazzesca ok tanto abbiamo l'acqua che ci fa ricordare da dove veniamo però peccato perché io pensavo che scendesse ancora di più ok cerchiamo un altro posto che scende forse da questo lato vediamo un po che cosa c'è da questo lato da questo lato c'è qualcosa che sale a noi non è che interessi molto salire infatti qua finisce proprio ci metto una torcia giusto per non farci spona nessuno dell'altro carbone io me lo prendo ragazzi ok fatto un po di incetta di carbone adesso muoio ma non è vero c'è l'acqua c'è l'acqua non posso morire male dicevo vediamo se di qua si scende forse sia forse si quasi scende attenzione potrebbe essere interessante questo posto mettiamoci una torcia tanto per ricordarci che stiamo venendo di qua io al terrore molto sensato di perdermi male purtroppo qui c'è dell'oro quasi scende ancora ok qua si va in un posto brutto e qua si scende tanto signori direi che quasi scende proprio tanto bello bellissimo ora in teoria io dovrei essere in grado di vedere dei diamanti a distanza non è vero mai forse quello è un diamante allora io potrei pormi l'obiettivo di raggiungere quel diamante me lo potrei porre me lo potrei porre effettivamente come non lo so allora intanto cerchiamo di fare qualcosa che ci faccia capire da dove veniamo tipo così con una torcia mi separo dalla mia secchiata d'acqua perché devo scendere potrebbe essere pericoloso fare questa cosa lo so mi rendo conto ma io voglio andare zitto zitto 4 4 e si è proprio un diamante quel diamante lo voglio non è stato una genialata passare di qua diciamoci la verità non sono stato proprio il più furbo di tutti ciao ok è morto malissimo stavo morendo malissimo pure io però sbricciamoci un attimino intorno dov'era il diamante era da quelle parti non lo vedo più però era da quelle parti andiamo disseminando torce torce da tutte le parti è l'ho lì signori io voglio quel diamante cioè non è che voglio tanto voglio solo quel diamante me lo porto e me sono contento io sono contentissimo donna quanta roba che c'è da esplorare qua è è fottutamente immensa questa cosa allora ce la possiamo fare possiamo arrivare a quel diamante senza morire male forse però forse conviene mangiare sempre per i creep ok ci sono pure degli scheletri non è una cosa che mi piace no non c'ho manco uno scudo ci sono un sacco di scheletri che potrebbero vedermi e potrebbero seccarmi male perché non ho un posto dove rintanarmi quindi forse sarebbe più furbo iniziare a creare un posto dove rintanarmi che dite almeno così corna qualcosa mi metto qui e non sto proprio alla merce di tutti bellissima questa grotta bellissima cioè immaginate che gran figata customizzare tutta questa grotta sarebbe proprio bello c'è uno scritto che mi stavo osservando cioè voleva osservarmi allora secondo il mio senso dell'orientamento altamente sviluppato non è vero mai il diamante dovrebbe stare da queste parti più o meno e io in teoria ho sentito qualcosa di brutto di molto brutto ok ho sentito un sacco di ragni cadere dovrebbe stare da queste parti era qua sotto no allora qua sopra per forza magari sto scavando da tutt'altra parte sento degli scheletri camminare ci mi sto facendo un piccolo fortino ok col pipistrello mi ha appena tolto 15 anni di vita non avevo capito che fosse un pipistrello raga io devo affacciarmi ma dove cazzo non la stava quel diamante c'è possibile che non trovo il diamante scusatemi adesso non è per cattiveria però voglio di a stava lassù porca zozza sta molto più su allora sta lì su ok ce la possiamo fare non è non è difficile sembra difficile ma in realtà è abbastanza semplice basta scavare così magari ci facciamo un attimino ecco qua in questo modo qua siamo lontani dagli scheleti lontano da tutto e da tutti e il diamantuzzo dovrebbe stare da queste parti più o meno ma dove porca zozza sta quel diamante maledetto ok non perdiamo la calma non dobbiamo mai perdere la calma perché quando siamo in prossimità del diamante quella l'emozione ti frega facciamoci un attimo un piccolo scudo da tutto e da tutti diamante non lo vedo ma non è possibile allora sta qua eccolo eccolo attenzione ma non era questo perché questo non si vede però uno l'abbiamo trovato ce ne deve sta pure un altro eccolo qua l'altro attenzione signori due diamanti l'abbiamo trovati 3 eccoli qua ebbe 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 4 diamantozzi così grazie 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 bellissimo magari c'è pure il quinto nascosto non c'è vabbè va bene 4 dai non facciamo gli ingordi o io i diamantozzi me li sono presi mi sento molto realizzato di questa cosa e quindi penso che me ne posso tornare la mia basetta lì su ammesso che io riesca a trovare la strada ma in teoria dovrei riuscirci perché ho lasciato delle tracce in giro per il mondo delle tracce abbastanza evidenti fa un casino assurdo per tornare lì per non incontrare quattro scheletri puzzolenti devo tornarci con con uno scudo qui sotto assolutamente ecco magari non scenderò proprio da qua ma scenderò di qua che è meglio la perfetto mamma mia avevo detto io che questi scheleti sono pericolosi però intanto ce l'abbiamo fatta seguiamo le torce attenzione a possibili creeper ozzi che nel mentre sono sponati quella è la mia sorgente d'acqua la ho visto uno zombie che è diventato rosso ho avuto un'allucinazione bruttissima probabilmente sì ok risaliamo mi riprendo anche la mia bellissima fonte d'acqua perché non voglio che la gente mi segua e cerchiamo di tornare al punto di partenza non dovrebbe essere estremamente complicato in teoria perché io vengo chiaramente da qui ovviamente eccoci qua questa è la mia pozzetta d'acqua ovviamente notte perché ti pareva posso mai tornare col giorno quindi risaliamo ritorniamo in base posiamo i nostri quattro diamanti comunque questo posto promette molto bene non so ancora cosa farci ma ho tutta l'intenzione di customizzare tutto a sto posto proprio tutto allora da qua dovrei raggiungere qualcosa eccolo qua questo il mio posto felice perfetto ora cerchiamo di tornare a casa senza morire male dovremmo riuscirci in teoria eccoci qua signori e saltellando saltellando siamo tornati a casa oh benissimo facciamoci una dormita tanto per far smorzare gli animi a tutti quei mostriciattoli che stanno fuori e posiamo i nostri quattro diamantuzzi bene così ragazzuoli io questo episodio lo terminerei qua spero vi sia piaciuto e vi do appuntamento alla prossima puntata buona serata a tutti ciao ragazzi